Fiumicino è un comune molto esteso dove c'è tantissimo verde, molto difficile anche da mantenere, però voi avete pensato a qualcosa di nuovo, comunque di organizzare questo settore, come? Abbiamo voluto dare una risposta un po' più strutturata, non correndo dietro l'emergenza caso per caso, ma facendo due appalti, uno che si occupa fondamentalmente dell'area sud, quindi Fiumicino e Isola Sacra e l'altra in tutto il resto del comune, nella parte nord, due appalti che hanno una durata di 4 anni, quindi 4 anni a disposizione di un intervento continuo di manutenzione della parte a verde, che sono le agliole, le rotonde, la pulizia dei marciapiedi, ora ce ne sono ancora tante da fare, attenzione, ci sono tanti marciapiedi ancora da pulire, ci sono ancora diverse agliole da fare, però già si sta vedendo il passo, il cambio di un lavoro di manutenzione che sta andando in profondità. Non abbiamo voluto fare come al solito il caso per caso, ma dare una continuità nella manutenzione complessiva. Adesso stiamo predisponendo, come sempre assessorato all'ambiente, un altro appalto, anche quello che ha una certa durata, che si occupa delle potature. Che non è un argomento da sottovalutare perché è strettamente connesso alla sicurezza. È strettamente connesso alla sicurezza, è strettamente connesso alla fruibilità per esempio dei nostri parchi, dei nostri giardini, perché per esempio penso alla pianeta monumentale di Fregene, ogni tanto purtroppo casca un pino monumentale. Perché casca un pino monumentale? Perché comunque tutte le cose hanno un tempo, una vita e la vita purtroppo della pianeta monumentale di Fregene è una pianeta che forse è la più longeva in assoluto quasi di tutte le pianete d'Italia. Quindi ha veramente centinaia e centinaia d'anni e che purtroppo risente di questa anzianità. Ogni tanto succede questo e quindi bisogna intervenire, bisogna mettere in sicurezza. Tra l'altro sono pini molto grandi. La stessa cosa riguarda per esempio i cipressi, il pioppo cipressino che abbiamo su Viabbezzi. Viabbezzi anzi due anni fa è successo addirittura un incidente che ha colpito una giovane, una macchina con danni anche abbastanza importanti. Quindi noi vogliamo naturalmente prevenire tutto questo. Anche quelli per esempio hanno un problema. Ci sono diverse alberature che devono essere asportate, devono essere tolte per magari metterci un'altra essenza, metterci delle essenze nuove. Ora questo lavoro che è un lavoro sul nostro patrimonio forestale, sul nostro patrimonio verde, è un lavoro importantissimo perché abbiamo un comune molto grande e fortunatamente con tanti alberi, con tanto verde. Però naturalmente poi ha bisogno di una continuità e anche di un costo abbastanza elevato. E quindi quanto costa questa manutenzione, questo programma che avete fatto quadriennale se non sbaglio? Il programma quadriennale, noi addirittura abbiamo un appalto, gli appalti sono di circa tutte e due insieme, di un milione e mezzo l'anno. Non è una cosa di poco conto per un'amministrazione comunale come la nostra. Un milione e mezzo che naturalmente moltiplicato quattro incomincia a diventare una somma molto importante. Poi invece le potature sono oltre 400 mila euro l'anno di interventi di potatura che riguardano solo la potatura e quindi finalizzata esclusivamente alla messa in sicurezza. A parte gli interventi che fa anche la protezione civile tra l'altro. In termini di emergenza poi a questo si aggiungono gli interventi che sono quotidiani direi anche, soprattutto nel periodo invernale, da parte della nostra protezione civile dove molte volte si vedono, corrono, corrono di notte, vanno là durante la giornata a fare quegli interventi, termine in sicurezza e così via. Quindi la manutenzione ormai è diventato il cuore dell'attività quotidiana da parte dell'amministrazione comunale. Quindi per anche qui cercare di tirare le fila di quello che ci siamo detti, c'è un'attenzione verso la zona nord del comune, un'attenzione verso Fiumicino per quanto riguarda la manutenzione del verde, intesa sia come parchi, ma intesa sia come alberi che troviamo sulla strada, intesa sia come aiuole, intesa anche come pulizia dei marciapiedi rispetto ai rovi che spesso si trovano ai lati. Dunque un'attenzione particolare all'ambiente ma anche alla vivibilità stessa della città. Quando tante volte ci chiediamo ma con i nostri soldi che cosa ci fanno? Ecco diciamo che questo è un esempio almeno proprio codificato di come vengono spesi i soldi. Ci ha spiegato il sindaco un milione e mezzo di euro per coprire la manutenzione di tutto il verde, l'area nord e di Isola Sacra, un progetto quadriennale quindi non mordi e fuggi ma con un respiro più lungo, 400 mila euro per le potature che servono non solo per tenere bene gli alberi ma per far stare sicuri automobilisti e motociclisti quando viaggiano per le strade di Fiumicino. Questi sono soldi della collettività così vengono spesi per l'ambiente.